Ingredienti Dosi per 4 persone 400 grammi di cervello a fette Farina Burro Sail Pepe Uovo Pangrattato Paprica Curry Worcester Preparazione Prendi il cervello lo tagli a fette Fai dorare nella pentola con il burro Sale e pepe Squisitissimo o anche impanato con uovo e pangrattato Oppure in una bella pastella che gonfia e viene morbida Anche strapazzato con uovo Poca paprika e curry e se piace salsa Worcester Il piatto è pronto Buon appetito